Benvenuti ragazzi o bentornati sul mio canale, sono Divix, la prima domanda che vi faccio è ma non è il caso di ripetere il sorteggio come è successo l'anno scorso dopo che in maniera fortunosa pescamo l'Ajax? Ovviamente questa è una battuta, però sinceramente ci è andata abbastanza di sfiga, il girone è un girone di ferro è un girone di ferro che deriva dal fatto che l'Inter è in terza fascia e quindi in questo video parlerò sicuramente del perché ci troviamo a affrontare questo tipo di girone cosa ci aspetta, le possibilità di passare il girone, cosa dobbiamo fare soprattutto per passare questo girone senza darci troppo addosso perché ho già letto i commenti dei tifosi molto disfattisti e soprattutto che cercano di trovare un capro espiatorio e cioè la sfiga è veramente una questione di sfiga, scrivetevelo qua sotto ma prima guardate il video, buona visione Bayer Monaco, Barcellona, Inter, Vittoria, Plizen è un girone molto difficile perché le prime due squadre sicuramente il Bayer Monaco è una squadra che sta asfaltando già subito il campionato sta facendo un miliardo di gol nonostante l'assenza di Lewandowski e il Barcellona è il Barcellona della rifondazione, ha speso tantissimo sul mercato ha ricostruito una squadra per vincere da subito e ha anche venduto poco e quindi sicuramente peggio di così era difficile che ci potessi andare e guardando anche gli altri gironi non ci sono gironi con tre squadre così forti e quindi la prima cosa che vi dico è sicuramente anche il Barcellona e il Bayer Monaco non sono stati felici di bescare l'Inter come terza squadra questo però non mi tira sul morale perché sarà difficilissimo passare il turno e quindi cerchiamo subito di fare un commento perché l'Inter si ritrova ad affrontare questo tipo di girone? allora, piuttosto che guardare sempre alle palline perché è vero, oggi ci sarebbe potuto andare un pochino meglio però partendo in terza fascia con queste grandi squadre in prima e seconda fascia è difficile, è molto difficile che dalla terza fascia tu possa pescare un girone abbordabile prima di iniziare a commentare e lamentarci dovremmo assolutamente pensare che una squadra come l'Inter se vuole tornare ad essere grande se vuole tornare a passare con continuità i gironi di Champions come peraltro fa la Juventus che tanto prendiamo in giro ogni anno perché poi arriva i quarti e gli ottavi in semifinale e non vince la Champions League però la verità è che la Juventus arrivando avanti, arrivando in semifinale, avendo fatto delle finali si è garantita un punteggio tale che le permette di essere in seconda fascia e essere in seconda fascia oggi ti dà una grande, grande sicurezza di pescare un girone abbordabile può andarti super sfiga, sicuramente il Barcellona in seconda fascia gli è capitato un girone difficile però non ci sono squadre di terza fascia, tante squadre di terza fascia forti forti, sicuramente forti come il Barcellona, come il Bayern Monaco, come l'Atletico non ci sono, non ci sono quindi dobbiamo mentalizzarci noi subito per cercare di non diventare provinciali e ricordarci di essere una squadra che puntava e ha puntato per tanti anni a vincere la Champions League quindi non a passare il girone ma a vincere la Champions League perché se noi cominciamo a puntare a vincere la Champions League so che adesso sembra un'eresilia quello che vi sto dicendo la squadra si mentalizza per questo e diventa una normalità a passare il girone oggi ci troviamo ad affrontare un'impresa quasi impossibile perché nei scorsi anni è successo soltanto una volta abbiamo passato il girone di Champions League gli altri anni ce la siamo fatta addosso tante volte non abbiamo passato perché ci mancava il coraggio, ci mancava di esperienza bisogna cambiare subito la solfa bisogna cambiare completamente la mentalità della squadra, dei giocatori in modo tale che si venga mentalizzati per dire il passaggio del turno è il risultato minimo richiesto per la stagione qualunque sia il sorteggio qualunque sia il sorteggio qualcuno mi dirà la stai facendo facile ma è così perché si parte dalla testa si parte dalla testa per costruire una squadra importante cosa bisogna fare per vincere questo girone cosa bisogna fare per passare per lo meno questo girone sicuramente un miracolo perché mentre il Barcellona è una squadra nuova manca ancora qualche meccanismo rodato perché c'ha tanti giocatori nuovi Xavi è un allenatore particolare quindi adesso bisognerà vedere come arriveranno le prossime partite e quindi come arriveremo quando le affronteremo il Bayern Monaco invece è una squadra che asfalta tutti quanti ha una sicurezza, ha quella sicurezza di cui vi parlavo prima cambiano i giocatori anche se è andato via il loro top player in assoluto sembra che questo campionato sia iniziato ancora meglio nello scorso anno riescono sempre a sostituire giocatori con giovani con importanti riserve che poi diventano titolari e quindi loro riescono a ricostruirsi e a rifondarsi ogni anno e riescono anche a mantenere un equilibrio economico che nel calcio è difficilissimo quindi il Bayern è veramente un modello da seguire e credo che sarà la partita in assoluto più difficile più difficile perché loro veramente hanno un'impostazione un modo di stare in campo una sicurezza con la palla fra i piedi ed è difficilissimo affrontarli molto difficile affrontare sul Barcellona ho già parlato prima è una squadra fortissima che si è rifondata punto sul fatto che non abbia ancora dei meccanismi oliati Xavi è un allenatore che fa giocare la squadra molto alta dovremmo essere bravi a approfittare degli spazi che lasciaranno perché ci lasciaranno degli spazi ma a chiudere a cappello voglio dire una cosa l'Inter l'anno scorso ha dimostrato di poter dire la sua contro grandi squadre ha giocato un grande calcio sia con Liverpool che con Real Madrid nel girone non è riuscita però a concretizzare a portare a casa il risultato cioè nel calcio non basta giocare bene tante volte giochi benissimo e poi perdi guardate come ha vinto il Real Madrid la Champions League e quindi l'Inter quest'anno deve fare tesoro di quello che è successo l'anno scorso e anche con l'arrivo di Lukaku che secondo me ci darà opzioni diverse in attacco la cosa fondamentale sarà riuscire ad abbinare le prestazioni ai risultati io credo che l'Inter farà comunque delle grandi partite non tutte non mi aspetto che giocherà bene andate e ritorno col Bayern Monaco andate e ritorno col Barcellona sarebbe difficilissimo sarebbe una grandissima impresa ma io penso che l'Inter potrà fare delle grandi partite in questa Champions League ci potrà far divertire l'importante però sarà concretizzare quindi mio malgrado malgrado anche la mentalità di Inzaghi che è focalizzata sul gioco, sull'attacco a volte dovremmo fare tesoro e approfittare secondo me di squadre che giocano molto molto alte e quindi ci lasciaranno tanti spazi soprattutto il Barcellona e cercare magari di sfruttare un'arma che l'Inter sapeva sfruttare benissimo con Conte e cioè quella del contropiede che faciliterebbe il fatto di portare a casa il risultato sembra un'eresia non so se lo è è il mio pensiero poi sotto mi scrivete voi cosa ne pensate però io credo che questa potrebbe essere un'arma da utilizzare in certi contesti soprattutto quando si gioca in trasferta a Barcellona e o a Monaco di Baviera dove il Bayern probabilmente terrà il possesso per tutta la partita ricordo quando Inzaghi affrontò il Bayern Monaco con la Lazio fece una brutta partita se andate che ritorno prese tanti gol io credo che bisogna avere l'umiltà di comprendere quando una squadra è più forte in questo caso qua soprattutto il Bayern Monaco è sicuramente più forte di noi bisogna avere l'umiltà di saperli affrontare di saper guardare quali sono i loro punti deboli e di non voler provare a dimostrare di essere superiore a loro perché noi in questo momento non siamo superiore a loro aggiungo che il passaggio del turno io lo ritengo fondamentale per il processo di crescita e il processo di continuità che questa squadra ha bisogno di percorrere e quindi non vi dico quante possibilità ci sono di passare il turno ma vi dico che secondo me questo deve essere per forza un risultato non so come ma deve essere un risultato minimo che io mi aspetto cioè il passaggio del turno e il fatto di essere partiti da terzi del girone è perché l'Inter ha fatto male le scorse Champions League e non è riuscita a vincere il campionato scorso quindi non mi lamento con la pallina non mi lamento con le estrazioni non mi lamento con la sfiga ci prendiamo questo girone difficilissimo e faremo di tutto per passare il turno questa è la mia opinione scrivete cosa ne pensate e soprattutto scrivetemi se siete positivi o meno noi ci vediamo al prossimo video se non siete iscritti al mio canale e vi piace il calcio ma soprattutto se vi piace l'Inter iscrivetevi ciao ragazzi